Ciao a tutti, io sono Drey E io sono Sarro Bentornati, mascherati e mascherate in questo nuovo video di Fortnite Ah, che fai? Gioisci per la Pasqua ormai finita? Esattamente, per tutti i chili di grasso che toccherà smaltire Guarda com'è ballo, guardami Atterriamo in un posto dove siamo stati poco di recente Cioè questo Questo magico posto qui sotto Sì, che in realtà per 5 secondi ho pensato Potremmo tranquillamente pensare di andare a fare la solita discesa folle Alla fattoria Ma è un'idea stupida, perché moriremo sicuramente Noi abbiamo un pessimo rapporto con quel posto E quindi no, no, è stata una pessima Ci sono tutti i redneck e i fattori pazziti che fanno Ah, io vi uccido, cattivi Esattamente, quindi atterriamo, facciamo io sotto, tu sopra Va benissimo Che non è in alcun modo Non vi fate idee strane Non vi fate idee strane Non ci dovete provare minimamente Che cosa hai trovato, Sorrow? Ho trovato un magico schifo, il mio piccone e tanta fede nella cura Quindi nulla? Esattamente, 5 band È il tuo modo per dire che non hai trovato niente Io ho una pistola e un po' di delusioni amare Un po' come nella vita Evviva! Il fatto che ho sbloccato questi due coltelli per spaccare i muri Che è una cosa geniale Che qua! E sono fatti d'oro Eh sì? Ti dà molta soddisfazione Mi spieghi per quale motivo? Anzi, ce lo spiegate voi simpatici mascherati? Perché non vedo mai nessuno che usa le pistole? Ma perché genericamente la gente preferisce le mitragliette Perché siete tutti dei pazzi che usate il pompa? No, usate le pistole Le pistole e i fucili Lui viene dal Call of Duty 2 Sì, capito? Non sono io che sono scarso Siete voi È colpa vostra C'è un tizio Alle tue spalle Eh, Ubudà Sei stato poco Vabbè, pure lei che fa È rimasta ferma Signora Si sveglisi No, no, ma è tipo entrata Ha fatto Oh, c'è un cadavere sulle mie scarpe È colpa vostra Siamo entrati in quella fase della partita? Sì, non c'è nessuno C'è sempre un momento della partita In cui noi stiamo girando Ma non c'è nessuno Guarda, faccio una prova Ehi C'è l'eco Eco C'è l'eco C'è l'eco No, perché Gallo Gallo, di certo non fallo E Allora, noi potremmo In linea del tutto ipotetica Andare in linea retta E seguire la safe Sì, cos'è? Una di quelle challenge Gioco a Minecraft Ma vado solo dritto Gioco a Minecraft Ma non gioco a Ma il gioco finisce Quando gioco a Minecraft Gioco a Minecraft Ottio Lo facciamo un video così Sì, fantastico Un secondo Apriamo il menu Fine del video Buonanotte Ciao Boom Se pubblichiamo un video di 5 secondi Quanto si triggera YouTube? Tantissimo Tulla giù Buon giù Tulla giù Tutto attaccato Tulla Tulle Oh sì Vai così Cretino Neanche costruisci Esplodi Fenomeno Fenomeno Sì, quanto noi Questa è una battuta così potente Che ci brucia da soli Io ho sempre paura Di beccare gente Che poi guarda i nostri video E magari la insultiamo Quindi nel dubbio Ci scusiamo Fenomeno Fenomeno Scusaci Aspetta che lo vedo Fallo fuori Madonna l'ho preso Bravissimo Io a distanza Mi sento a mio agio C'è una barca che ti tira i missili Ho eliminato Spal 19 Addio Spal 19 Spal Ironicamente Aspetta che ci penso Cucu Bastardone Esplodi ragazzo Questo c'ha la skin comprata O la skin figa Skin figa 3,2,1 Boom E' una specie di asciugamano Ripiegato Forza Cosa avevano Sti due mascalzoni Questi due mascalzoni Avevano tendenzialmente Solo i calzoni Addosso Non c'avevano niente Ma io ho sentito Altri spari Sospetti Da questa zona No Più che altro È il tipo Che Ecco infatti Cosa ho detto Ah guarda un po' Siamo due Youtubers Andiamo Abbiamo i sensi Di ragno No stavo per dire Che andiamo Dove ci sono gli spari Perché sentiamo La necessità Di cercare cose Utili da mettere Nel video Ah ok Siamo degli youtuber Andiamo dove Sentiamo degli spari Dov'è il nesologico Alla fine si E come Gli youtuber Sono come dei mercenari Vanno dove vanno I soldi No vanno dove vanno Gli spari L'azione L'azione Azione Avete mai visto I video di Italian Spiderman Forse è il caso Che ve li andiate a cercare Proprio adesso Se la risposta è no Davvero Andatevelo a guardare Azione Azione Romanza Sono bellissimi Aspetta aspetta Gesù Cristi Un coccodrillo Ah un coccodrillo Dami il tuo diamante Italian Spiderman No non siamo pazzi È veramente una versione Di Spiderman Con la trippa La barba I baffetti E l'Italia I capelli Cioè è tipo L'italiano medio Visto dal resto del mondo È molto divertente È una cosa molto bizzorra È anche un po' offensiva Mi sa che c'è Stava un altro ombrello Nella scassa Non mi piace fare Mary Poppins E sto facendo a botte Con della gente Quindi una manina Me la potete Fantastico Sono uscito La safe La safe Sei uscito Ah la prendo alle spalle Esplodi donzella Ah devo ricaricare Pistola Ok Oh grazie Vedi a che serve la pistola Sì la pistola è il ripiego cosmico Quando sei Che cosa hai visto Scardiola e sparabende Scardiola Spara Sparascare Sparabende Sparascare Ma che fai Tipo cosa Jafar che fa Prima la lampada Prima Perché cosa ho fatto Resti fuori dalla safe E mi lasciammi da solo Sorrow Dammi la lampada Non è più Dammi la lampada Senti non me lo ricordo Per me Jafar È quello con la voce figa Da piccolo Mi hanno molestato Sono stato molestato C'è quel meme ricorrente Per cui tutti i cattivi Disney Quando erano piccoli Sono stati molestati E devono esprimerlo Con una canzone Spara No stavo per dirti Sparami con la benda No ti sparo con la R Senti facciamo questo simpatico Oh sì Oh sì Quanto mi sento soddisfatto Quando stringo Quando stringo un fucile d'assalto Tra le mie mani Io per un attimo ho flashato La safe Che si stava avvicinando Alle nostre spalle Ed è vero C'è un elicottero Devo sparargli No non gli devi sparare Io devo sparargli Una psicologa Tu non devi sparargli Sarò una vera psicologa Meglio fare letteratura Una psicologa No sai che c'è Il discorso è che Quando vedo un elicottero C'è l'impulso nella mia mente Di colpire e uccidersi Sì Di coach o uccidersi Sì Oggi sono un pochino spastico Ho colpito un tizio molto lontano E questo mi sta facendo Aia Si può ballare in due questo tango Bello Bello ragazzo C'è gente Anche qui c'è l'Italian Spiderman C'è gente a destra Quello si è lanciato Sì sì Vola vola L'ape maia Gialla in caia E io gli sparo All'ape maia Madonna santa Ma l'ape maia è grande Quanto un proiettile Pensa quanto sei crudele Se spari ad un'ape Cioè tipo la vaporizzi Fai fium E la fa diventare Sei un mostro Sì La fai La fai di esistere C'è gente Sì l'ho vista Aspetta Non li prendo Però ci provo E l'effetto sorpresa No A che cosa ti serve L'effetto sorpresa Quando hai una voce come questa No A cosa ti serve L'effetto sorpresa Quando puoi sparare E farti sparare in risposta Ok Rispostacci vostra Rispostacci vostra T'ammazzo T'ammazzo No sto sparare al muro T'ammazzo Li distraggio Conta c'ha tutto Oh sì Madonna Allora Che trick Qui c'è un masgalzone E ci penso io Aspetta che Voglio provare a darti supporto Stando qui dove sono Fallo muovere Che tattica è E c'ho l'assalto Fallo muovere Sparagli No no non lo vedo Vieni da questa Vieni verso di me Sì la fa facile Ma perché mi scordo sempre Che c'è la safe Alle mie spalle Perché tu c'hai la R Quindi sei nato un po' speciale Come ti permetti Ah lo vedo Lo vedo Lo vedo Se devo andare giù Anche tu andrai giù Hai ucciso il mio compare Ora morirai Stai attento che mo' fai il giro Ecco prevedibile Ullalla Ullalla Madonna Lasciami No Lasciami Io ti porterò con me No Sì No ti stai portando Un sacco di carne defunto Vestito da ninja No vabbè ce la possiamo fare Non ce la possiamo fare Oh lo spara bene Lasciami a terra Oh lo spara bene Ma non ti serve se non puoi usarlo Certo che lo posso usare Se per qualsiasi motivo Riesci a portarmi fino alla safe Sei un eroe Ma non ce la puoi fare Andiamo Ma è impossibile Si può fare No lasciami frate Io ci credo Non ti lascio Lasciami a terra Ti curerò io Basta Sono morto Conta Sette Sei Dai 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 Cinque Sei Cinque 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 Sei Uno Cinque Ciao Però devo dire È stato estremamente Questo è decisamente il salvataggio meglio riuscito di Fortnite Che mondo Mi privi del mio amico È il minuto a otto per caso È il minuto a otto per caso Oddio fermate è veramente il minuto a otto Ma sei matto È il momento di correre Sì più o meno all'incirca Se tu sei convinto di potercela fare Io ti ribadisco Cioè sai che sta lontano la safe Sì lo so Ma il fatto è che ce lo spara bene L'unico problema è che mi si ricarica davvero lento Guarda posso dirti una cosa Quel bastardo probabilmente quello che ci ha sparato prima Sta ancora guardando la visuale Sì sta là e fa Dovete morire Infami Perché ci sono nel mondo le persone così Quei deficienti che esistono solo per guardarti e gufare Tu morirai Fate un'esistenza triste Individui Fatevi una vita Sì davvero fatevi una ragazza E fate quello che si fa con le ragazze Allora Davvero visitare i magici musei Sì no sorro Sai guarda Posso dirti una cosa Ammiro la tua folle determinazione Ma il fatto è che Domanda Perché non hai preso il trampolino Perché a posto di cosa lo prendo E che ci Qualsiasi cosa Eh ma non ho tempo Non ho lo sparabende Non ce la farai mai Ce l'hai No sei morto Oh no Dai Dai No sorro È lì davanti Però quanto vicino Madonna Ce la posso fare È allucinante Non ce la faccio Non ce la posso fare Ce la posso fare No Non ce la puoi fare Perché Però ammetto che sei stato un eroe Un eroe stupido Ma un eroe Un eroe stupido Un ero stupido Un eroe stupido Un ero stupido Un ero stupido